La storia di Enrico Mattei La storia di Enrico Mattei Mi interessava però anche tanto vedere che cosa aveva fatto e che cosa aveva significato l'impulso di Mattei per il nostro paese, non voleva che i dirigenti avessero più di 35 anni, oggi è qualcosa di paradossale quasi, però i neni con lui, i dirigenti massimo dovevano avere 35 anni. Uno come Mattei adoperava scorciatoie indegne con l'idea di accorciare i tempi per arrivare a un progetto di benessere comune. In effetti per quanto abbiano detto è vero che nessuno ha mai potuto accusarlo di mettersi in tasca personalmente una lira. Molti, e probabilmente hanno ragione, fanno notare che di lì si sviluppa poi tutto un sistema di corruttella generalizzata che peggiora, declina e crea il disastro nazionale in cui ci stiamo muovendo adesso. Abbiamo pensato subito che con Vaces volevamo far vedere la faccia di Mattei perché è una faccia che dice molte cose, volevamo farne sentire la voce e i modi. È tutto talmente interessante.